La persona che ha avuto il coraggio di sfidarne 100 che prende il pallone Non si sa bene dove va Però ci prova Attenzione viene fermato tantissime gambe che gli prendono il pallone Samuel ne sono 3 ed è contro 200 gambe Palla fuori Se ne fa male sempre uno Ma io non ho capito la dinamica L'ho visto cadere Eee bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Sempre che riesco sul canale Ragazzuoli nello scorso episodio avevamo fatto 2 contro 100 bambini Oggi siamo di nuovo qua nel campo ufficiale dell'MSP A fare 1 contro 100 Riuscirà una persona singola a sfidare 100 bambini? Ma prima a 25.000 like ragazzi faremo 2 contro 200 bambini Chi saranno i 100 bambini che sfideranno un giocatore? Uno lo vedete già? Sono proprio io e sono qui Gli altri due facciamoli entrare Ecco qua il team Pirla svuol completo Abbiamo alla mia sinistra il mitico Pierino Abbiamo alla mia destra il mitico Gnabin Abbiamo PSG Pierino, Samuel e Gnabin Messi, Neymar e Mbappé Allora se vogliamo dire tutto PSG PSG la I Per Isaac Ovviamente oggi Isaac non giocherà perché abbiamo visto che a calcio ha delle scarsissime doti Dopo l'ultima volta come era andato a finire Che si è fatto male dopo 5 minuti Nemmeno Ma sarà qui per caricare i bambini e per commentare un po' questa magnifica Mi piace Puoi andarci a preparare lì sopra il pollo perché dopo la partita saremmo affamati Allora vado Grazie E adesso andiamo a presentare i nostri 100 avversari Siete pronti ragazzi Si Ora aggiungiamoci Siete pronti ragazzi Si Signor Capitano Il vostro primo avversario si chiama Off Samuel Lo dovremmo mangiare come se fosse l'ultimo riso con il pollo della nostra vita Avete capito? Sì, signor Capitano Avete capito? Sì, signor Capitano Che cosa faremo ad Occomway? Sì, signor Capitano Ce lo mangiamo Bene ragazzi ci siamo qui al campo dell'MSP Calcio Sta per iniziare la partita Da una parte abbiamo 100 bambini Dall'altra abbiamo un bambino Off Samuel, lo conoscete tutti Pallone d'oro, vincitore di tantissime sfide su Youtube Italia Vediamo se riuscirà a battere 100 ragazzini Ogni 5 minuti ci daremo il cambio Quindi al posto di Samuel subentrerò io, poi Gnabri Ci saranno due tempi da 10 minuti Vediamo chi farà più gol in quest'arco di tempo Ragazzi, stiamo per partire E allora, 3, 2, 1 Via! Attenzione, stanno tutti correndo Mamma mia che ansia Primo pallone per Samuel, porca miseria Vediamo che è convinto a provare Il caldo è lì e la palla va fuori Ci ha provato Samuel Occhio, attenzione Il nostro eroe La persona che ha avuto il coraggio di sfidarne 100 Che prende il pallone Non si sa bene dove va Però ci prova Attenzione, viene fermato tantissime gambe Che gli prendono il pallone Samuel ne sono 3 Ed è contro 200 gambe Palla fuori Ti si è spostato il dento Ti si è spostato il dento No, ha spezzato Spezza... Oddio Allora, abbiamo Cosa è successo? Io voglio capire chi è colpevole Ma io non ho capito la dinamica Vado per risollevare la pacella L'ho visto cadere E quindi adesso come si fa? E quindi adesso ragazzi Cause di infortunio Non potrò continuare Entro io? Io ci tengo i miei denti Ma io ho paura Ma io ho paura Ma Pierino Ancora Ok, la presa di presa Per i bambini Per i bambini Vediamo Per i bambini Pierino attacca Oh, bel contrasto Ma Pierino ha la palla Ok Per i bambini Per la prima parte Per i bambini 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 Per fare un gioco di squadra Ma Vediamo se riusciamo a fare Un po' di gioco di squadra I bambini Per i bambini Vediamo Pierino La palla Attenzione Parata di Pierino No Seferino in tessere di nuovo la palla E seferino riuscirà In tessere di nuovo E gol dei bambini E gol Delle MSP Se riesce a recuperare la palla Se ne fa la possesso di Pierino No Se ne fa la possesso di MSP Vediamo se Pierino riuscirà A protessi La palla Dalla sua parte E invece No Se si parla ancora Delle bambini Se ne fa la possesso di Pierino Gol Gol Lasso Pensione Pierino Attacca Pierino Se lo è giusto per il mio GOL Ed è gol di Pierino Passiamo a 2 a 1 Giocato di astuzio La parte sua Giocato di astuzio La parte di Pierino Numero di Pierino Scramoloso Ancora Tutto questo C'è quando di non far male Non c'è una pasta Oh è la para La paratona di Pierino Attenzione Pare in possesso di MSP L'attacca Perino che si deve difendere Attenzione Attenzione Vediamo Provano il tiro E paratona di Pierino La palla rimane lì E Pierino E Pierino fa sua la palla Se Pierino riparte Se Pierino riparte Se vediamo se riesce a riparsi I due pari L'ultima azione Può chiederò il cambio O a Gabri O a Isaac Via Su Nel prossimo tempo Stavo sotto i due gol Non so come Sono riuscito a recuperare I due a due La partita è ancora lunga Ancora accesa Intanto abbiamo Samuel Che sta tornando dall'infermeria Come sta andando Dai un lento e mezzo a parte Bene Dai Tutto su Va bene Dal tono di voce Capiamo che è una cosa molto seria Ma va bene Non facciamoci intimidire Da questi avversari Adesso esco io Entrerà Gabriel Il mio posto Ricordiamo 10 minuti Per andare in vantaggio E vincere questa partita Dai 3 2 1 Si parte Inizia il secondo tempo Allora Attenzione Gnabri Che prova il tiro Salva tutti In una maniera incredibile E attenzione contro Tiro E che gol Che subito Gnabri Che beffa da parte Degli avversari E allora 3 a 2 Per i 100 bambini Si lamenta Gnabri Ma purtroppo è tutto regolare Ok Si riporte 3 2 1 Via Gnabri Prova a fare il furbo Viene già coperto Vediamo Molta difficoltà Attenzione Prova a correre Viene circondato Non è facile capire Cosa fare In determinate situazioni Veramente difficile Capire come fare Allora occhio Attenzione Tiro da fuori Viene murato Palla in mezzo Tiro alto Gnabri deve capire Cosa fare Attenzione Avanza Gnabri Non si capisce molto Di quello che sta succedendo Però Gnabri Pari abbia ancora Possa su palla Ma lo perde In questo momento Attenzione Assidio totale Da parte dei 100 bambini Della MSP Gaglia Allora ragazzi Rientra in campo Samuel Che non ha giocato Neanche un minuto Finora Si è curato Vediamo Se anche con un dente in meno Non riuscirà a fare un gol in più Questa partita E a pareggiare Ricordiamo 3 a 2 per gli avversari E allora si riparte Attenzione Vediamo Samuel Quale tattica Proverà adottare Questa volta Tutti che gli vengono addosso Vediamo se proverà Un tiro da fuori Ne dribbla uno Ne rimangono altri 99 Attenzione Sarà veramente tosta Occhio alla Samuel Dribbla al secondo Non dribbla però al terzo Prova a passare Ma viene murato Troppe gambe Contro di lui Ricordiamo Samuel è spaventato Ha già preso una gomitata Gli è partito un dente Attenzione 3.000 tocchi Da parte degli avversari Che hanno un solo tocco a testa Mamma mia Attenzione Potrebbero provare il tiro Situazione veramente complicata Da risollevare Tira e gol E stavolta non c'è nulla da fare Quella attenzione che è ripartito Disperato Prova il tiro Palla fuori Non ce n'è Palla che non vuole entrare La porta sembra stregata Bene ragazzi Mancano 3 minuti di gioco Abbiamo messo un'altra regola Per rendere ancora più difficile La cavalcata I nostri avversari In pratica per poter segnare Devono fare un tocco a testa Quindi solo passaggi di prima E prima di poter segnare Devono esserci almeno stati 50 scambi Ok quindi 50 passaggi Tra di loro Per poter fare gol E allora 3 2 1 Si riparte Funzione Samuel E prova a ripartire Funzione nella porta E gol A corsa le distanze 6 a 3 Attenzione E' ancora molto tosta Ma mai dire mai 2 minuti poi finisce la partita Allora ricordiamo Attenzione che ripartono I giovani dell'MSP Samuel viene inplaccato E lì in mezzo Non sa bene che cosa fare Allora occhi Che provano a ripartire i ragazzini Mamma mia Attenzione Provano a ripartire Palla all'attaccante Allora uno dei tanti Attenzione Samuel deve difendere la porta Attenzione Qui si rischia L'imbarcata A sede da parte dell'MSP Palla Che viene difesa Attenzione Samuel recupera il pallone La palla non va dentro Non si sa come 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 Ciao File Se volete giocare Contro pelino Contaci I figli altri Venite a sfidare Allora ragazzi Questo ogni video Si conclude da qua Ah mamma mia Ragazzi Diciamo che ci sono stati video Con un finale migliore Rispetto a questo Purtroppo Samuel si è fatto male Ha fatto male anche alla sconfitta Perché abbiamo perso 6 a 3 In 2 Contro 100 bambini Era fattibile In 1 È veramente impossibile ragazzi Però Noi siamo dei masochisti Ci piace farci del male Quindi vogliamo provarci Con 200 bambini Fateci sapere qui sotto Se Lo volete vedere Ragazzi Volevo anche aggiungere Che sono aperte Di iscrizione Qui all'MSP Calcio Quindi Se siete dei ragazzi Quindi Se non avete mai giocato a calcio Quindi Se volete Per la prima volta Avventurarvi nel mondo dello sport Questo è il bando giusto Per iniziare A iscrivervi a calcio Bando Link in descrizione Per tutti i contatti Qui dell'MSP Calcio Anche perché Molto probabilmente Ci potrei essere io Ad allenarvi Ah Che sorpresa Quindi Se venite Vi allenerò io personalmente Ci vediamo A bellissimo prossimo video Bella ragazzi Ehi con il riso Ehi con il pollo Ehi con il riso Ehi con il pollo Ehi con il riso